amici sportivi amici scommettitori bentornati sul canale benvenuti in questo nuovo video finalmente ci rivediamo dopo tanto tempo rieccomi qua ecco qua la mia bella faccia con la barba cresciuta i capelli cresciuti in attesa che il parrucchiere faccia il suo dovere tra qualche giorno lo farà io sono ritornato qua col mio bel faccino con i pronostici della serie a pronostici della 31esima giornata settimana scorsa ci siamo andati molto vicini con sette pronostici indovinati su nove per la perfezione c'è ancora tempo ma comunque stiamo andando molto bene ripropongo anche la schedina del weekend lo farò con un video che uscirà domani quindi seguitemi iscrivetevi al canale se il video vi sarà piaciuto e lasciate un bel mi piace alla fine e adesso senza perdere altro tempo partiamo con i pronostici che vedono la prima partita bella intensa crotone udinesi il crotone che è ultimo in classifico ormai diciamo che psicologicamente è quasi spacciato perché si trova ultimo sta provando a vincere ci sta provando con tutte le forze ma alla fine per un motivo per l'altro perde sempre però almeno è una squadra che diverte incontra l'udinese che si trova più o meno a metà classifica un po meno bassa ha bisogno di punti per consolidare la sua posizione non so se il crotone mollerà così facilmente la presa però secondo me qua potrà esserci ancora un over 2 e mezzo il crotone ci sta veramente divertendo e quindi over 2 e mezzo quotata 1 e 85 secondo me è una quota che va presa in considerazione per questa partita quindi la inseriamo sandoria verona allora partita tra due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato nel senso che stanno facendo un campionato molto tranquillo il verona in lotta con il sassuolo per l'ottavo posto mentre la sandoria è decima a 36 punti diciamo che sta facendo un campionato molto dignitoso con ranieri alla sua guida secondo me il verona e la sandoria giocheranno una partita molto molto tranquilla si divertiranno perché comunque non hanno nulla da perdere quindi secondo me qua ci sarà un bel gol quotato a 1 e 70 passiamo alla terza partita che è sassuolo fiorentina allora ragazzi la fiorentina è in una situazione veramente difficile perché aver cambiato l'allenatore per la seconda volta aver visto il ritorno di Iachini non ha giovato sicuramente all'ambiente e allo spogliatoio tra l'altro ha un calendario difficile per le prossime partite a partire proprio da questo match con il sassuolo che vede gli uomini di De Zerbi in ottima forma avendo vinto anche 1 a 0 col Benevento risultato un pochino stream in sito date le occasioni da gol mancate e qua secondo me il sassuolo replicherà non so se vincerà ma secondo me è un bel risultato in doppia chance 1x possiamo inserirlo in schedina a 1 e 35 passiamo al match del giorno che non è un big match di alta classifica ma è Cagliari Parma partita fondamentale per queste due squadre per la salvezza il Cagliari terzo ultimo a 24 punti insegue il Torino a 22 punti scusate insegue il Torino più avanti di 5 lunghezze e con una partita in meno il Parma penultimo a 20 punti non può più perdere terreno e in questa partita si gioca il tutto per tutto sarà secondo me una partita molto equilibrata nel primo tempo perché comunque andare in svantaggio potrebbe voler dire perdere veramente una fetta di serie A soprattutto per il Parma prevedo un primo tempo da pareggio quindi ho selezionato primo tempo x dato a 2 10 poi secondo me in questa partita ci saranno anche dei gol quindi se volete giocare il gol fatelo pure perché credo che alla fine le due squadre dovranno provare a vincere perché i tre punti saranno comunque fondamentali però io ho selezionato primo tempo x quota 2 10 che è una quota molto molto interessante andiamo a Milano dove c'è Milan Genoa e il Genoa vive in una situazione di classifica più o meno come l'Udinese quindi metà bassa ma comunque non disperata più 10 più 10 più 11 punti sulla terza ultima e quindi si può permettere anche di arrivarci piano piano a questi 40 punti il Milan che invece dopo l'eliminazione col Manchester United ha infilato tre risultati utili consecutivi spera di continuare la sua striscia e secondo me lo farà anche perché ha recuperato diversi giocatori probabilmente non ci sarà Ibrahimovic ma ne sono tornati altri come Rebic e Celanoglu non sarà secondo me un grandissimo ostacolo il Genoa di Ballardini e quindi ho selezionato l'uno a 1 e 45 passiamo a una partita molto interessante Atalanta Juventus forse questo è oltre a Napoli Inter il big match di giornata ma Napoli Inter sapete che io non la pronosticherò Atalanta Juve è una bella partita dove entrambe si giocano un posto in Champions League forse il primo posto è troppo lontano sia per la Juve che per l'Atalanta l'Atalanta però veramente in forma nelle ultime 10 partite ha fatto 9 vittorie e una sconfitta proprio con l'Inter la Juve dopo l'eliminazione dalla Champions League sta andando abbastanza bene a parte la battuta di stop col Benevento quello è stato un po' clamoroso sarà una partita secondo me bella e dove prevedo dei gol e quindi mettiamo il gol quotato a 1 e 50 Bologna Spezia altra partita da metà classifica il Bologna ha perso l'ultima partita 1 a 0 con la Roma ma ha 34 punti quindi in una situazione tutto sommato tranquilla ancora 8 giornate per per raggiungere la salvezza e credo che ce la farà lo Spezia ha 32 punti anche lei in una situazione di classifica tranquilla e proprio per questo secondo me questa partita finirà in pareggio però non lo mettiamo in schedina perché il pareggio sapete basta un episodio e cambia tutta la partita ma credo che l'under 3 e mezzo tra l'altro con una quota di 1 e 44 abbia un buon rapporto tra quota e risultato quindi under 3 e mezzo a 1 e 44 selezionata passiamo a Lazio Benevento Benevento che forse tra le squadre di basse classifica è quella che sta soffrendo più di tutte l'ultima vittoria è arrivata con la Juve 1 a 0 veramente un'ottima vittoria ma se torniamo indietro nel tempo la vittoria precedente risale addirittura al 6 gennaio quindi in tre mesi e mezzo ha fatto solamente due vittorie questo quindi denota le difficoltà del Benevento che ha perso anche l'ultima partita col Sassuolo in casa incontro una Lazio che in questo momento sta lottando per un posto in Europa che sia Champions o Europa League ma sta lottando e sta attraversando anche un ottimo momento di forma per questo motivo credo che la Lazio vincerà questa partita e la selezioniamo col segno 1 a 1 e 36 chiudiamo i pronostici con Torino Roma dove la Roma domani sera giocherà una partita con l'Ajax quindi secondo me ci sarà stanchezza incontro un Torino che da quando è arrivato Nicola sta andando molto bene non è in realtà quella la sua posizione di classifica da quando ha cambiato allenatore si trova con una partita in meno a 27 punti forse potrà approfittare della stanchezza della Roma per provare a segnare un gol o anche due e vincere la partita io qua preferisco selezionare il multi gol 1-3 casa che è dato a 1 e 35 e qui chiudiamo i pronostici va bene ragazzi solito consiglio selezionate tre partite al massimo e giocate secondo quelle che sono le vostre possibilità di budget divertitevi e non e non andate oltre se no poi diventa qualcosa di più pericoloso vi reinvito iscrivervi al canale a lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto io vi auguro buona fortuna e di vincere tanti soldi ciao